Una cerimonia alla caserma Tito Giorgi per accogliere il nuovo comandante della Guardia di Finanza, il generale Germano Caramignoli, che prende il posto del generale Gianluigi D'Alfonso. Un curriculum importante, il suo, è stato comandante del nucleo di polizia tributaria a Torino, comandante provinciale delle Fiamme Gialle a Cagliari, al comando tutela economia e finanza pubblica a Roma. Il lavoro svolto in questi anni delle Fiamme Gialle, soprattutto nel postisma e nella pandemia, è stato importante e si proseguirà su quella scia. Sono molto onorato di assumere il comando regionale Abruzzo e di questo sono grato ovviamente al comandante generale per la fiducia che mi ha accordato designandomi per questo importante incarico. Cercherò di fare del mio meglio ovviamente. L'Aquila è una città che non ha grandissime problematiche, l'attenzione però della finanza, soprattutto poi nel post-sisma, ricostruzione, appalti, evasione, è stata molto alta. Si procederà su quella linea con tante iniziative, anche lei intende avviare collaborazione con enti locali per avere sempre più il quadro della situazione sotto controllo? Qui il punto di partenza credo sia ottimo, quindi si tratta solo di continuare in questa direzione e sicuramente il livello di collaborazione è eccellente e cercheremo quindi di proseguire lungo questa linea.